Nel 2003 Violante alla Camera fa delle dichiarazioni scioccanti. Pochissimi italiani ne vengono a conoscenza. L'onore Berlusconi sa per certo che è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 1994, che non sarebbero state toccate le televisioni quando ci fu il cambio di governo. E lo sa. Lo sa lui e lo sa Dona Eletta. E lo sa Dona Eletta. Comunque, a parte questo, la questione è qui un'altra. Voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni, non avessimo aumentato durante il centro-sinistra il fatturato di Mediaset, aumentato di 25 volte. Ma in nome di quale mandato elettorale sono state prese queste decisioni? E nell'interesse di chi?